un altro modo per tornare indietro con il computer è quello di utilizzare la cronologia file per tornare indietro su un file o una cartella questa opzione è in grado di portare indietro il file o la cartella all'inizio della sua storia da quando è stata creata però quest'opzione denominata cronologia file deve essere attivata come vedi anch'io non l'ho attivata andiamo prima ad attivarla e poi andiamo a vedere come funziona la cronologia dei file andiamo nel pulsante cerca e cerchiamo cronologia entriamo dentro il pannello di controllo cronologia file ci attenderà questa finestra se non abbiamo configurato il sistema della cronologia dei file infatti ci dice che è impossibile trovare un'unità utilizzabile e quindi si consiglia di utilizzare un'unità esterna per la cronologia dei file connettere l'unità e aggiornare questa pagina oppure utilizzare un percorso di rete per abilitare quest'opzione dobbiamo andare ad inserire all'interno del nostro computer un disco esterno possiamo sia inserire all'interno del computer un disco usb sia andare ad inserire un'unità esterna nas quindi un disco di rete e questo è il momento di andare ad inserire un'unità usb un disco usb un'unità esterna io vado a collegare il mio nas esterno voi potete da qui collegare il disco usb o il disco nas io vado a collegare il disco usb o il disco usb o il disco usb ecco qua che individuo il mio computer remoto o il mio nas inserisco una mutente e la password memorizzo le credenziali seleziono una cartella voglio utilizzare questa ecco qui ho selezionato la mia unità di rete per scaricare dentro la cronologia dei file adesso vado ad attivarla eccola qui che mi risulta attivata ora nelle impostazioni avanzate vado a vedere ogni quanto va a fare la copia del file ogni ora mantieni le versioni salvate sempre e mi va bene anche così qui posso andare a controllare i registri eventi ma attualmente penso sia inutile controllarlo perché dovrebbero essere vuoti le cartelle su cui avrà effetto saranno tutte le raccolte il desktop i contatti e preferiti ovvero se vado ad aprire questo pc e vado a vedere che qui ho un desktop documenti download immagini musica e video le raccolte sono proprio queste la cartella video musica immagini desktop e documenti vado per cui sul desktop vado a crearmi un file per far la prova creo un documento di testo di test e vado ad effettuare la scrittura di un dato con un documento di testo premendo F5 vado a scrivere automaticamente la data e l'ora ritorno tra un'ora a controllare che abbiamo più versioni del file vado a scrivere anche qualche altra cosa e salvo come funzionerà la gestione delle versioni del file andando a fare tasto destro sul mio file creato proprietà dopo il tab sicurezza e dettagli ci sarà il tab versioni precedenti qui andrò a maneggiare i file e le versioni dei file che saranno create da questo momento in poi per velocizzare un po' il test vado a mettere almeno una copia ogni 10 minuti ogni 10 minuti vado ad inserire qualcosa per fare le prove e sempre con lo stesso metodo vado a introdurre un'altra riga di testo all'interno del file e salvo intanto c'è stato un lungo riavvio a causa degli aggiornamenti quindi è passata abbondantemente un'ora andiamo a vedere che nelle proprietà e all'interno delle versioni precedenti abbiamo una versione su cui abbiamo due opzioni possiamo aprire o aprire con cronologie o ripristinare o ripristinare in andiamo ad aprire e ecco che abbiamo una versione differente da quest'altra guardate ve li metto uno a fianco all'altro vedete che questa versione è stata modificata questa versione è quella delle 15 e 33 quindi abbiamo due versioni differenti su cui possiamo interagire ovviamente io adesso le chiudo tutte e due possiamo ripristinare nella stessa versione possiamo ripristinare in un altro percorso in modo da avere ad avere un salvataggio supplementare del file questa opzione della cronologia file ci permette quindi di andare indietro nel tempo da mettere in relazioni più versione del file in modo da non perdere le modifiche attenzione che quando andiamo a ripristinare una versione non andiamo a sovrascrivere le ultime versioni e quindi a perdere del lavoro la cronologia dei file ci permette di avere una cronistoria dei nostri file e quindi di poter tornare indietro nel tempo grazie a tutti